Allora amici di Soccer Time, eccoci qua con i tanti fuoriclasse che hanno lasciato, che stanno lasciando il campionato italiano. Questa è stata anche la stagione in cui ci siamo accorti al di qua della manica di aver regalato alla concorrenza straniera un altro grande talento del calcio italiano. Non ha bisogno di presentazioni, sono in compagnia di Federico Macheda. Federico, allora, ripercorriamo questi ultimi due mesi e mezzo straordinari che hanno cambiato letteralmente la tua vita. Partiamo da aprile, gol all'Aston Villa, gol al Sunderland, prime pagine, contatti su Facebook a livello smisurato, insomma è cambiata completamente la tua vita. Sì, è stato bellissimo fare quei due gol, anche per il mio sfogo avevo bisogno di farmi vedere dalla gente. Sicuramente questo è perché sono andato a Manchester, è servito anche alla squadra che ci ha permesso di restare in testa la classifica. È una cosa abbastanza bella. Senti, squadra hai legato di più con qualcuno, si dice con Gary Neville, non so se è vero, hai un legame maggiore rispetto agli altri, se c'è qualcuno in particolare con cui hai legato. Beh, ho legato molto con gli stranieri, magari Cristiano Ronaldo, Tevez e Evra con loro. I primi tre, i primi tre. Senti, subito dopo questa esplosione di popolarità, ovviamente la Lazio ha detto il suo, si è sentita scippata dal Manchester United, cosa che invece non corrisponde a verità, ha menzionato le leggi, eccetera, eccetera. Cosa ti senti di dire su questa cosa? Niente, 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 perché ho sentito questa cosa ma non mi avete ribattuto né all'Utito né a tutti quelli che hanno parlato di questa cosa perché lasciamo lì parlare. Maggio, che vuol dire la vittoria della tua Lazio in Coppa Italia e la sconfitta con il Barcellona in Coppa dei Campioni. Un momento di felicità e uno un pochino meno. Beh, la vittoria della Lazio è stato un gran momento di gioia per me perché sono un grande tifoso, mi sono visto a casa, poi a finale a Roma ci tenevo a vincere questa Champions, anche se non ero in panchina, però nella mia città magari sarebbe stato bello. C'è un allenatore che consiglieresti alla Lazio in questo momento? Visto che Delio Rossi, Delio Rossi ti piaceva come allenatore? Uno straniero. Ti piacerebbe uno straniero? Scolari, Lucescu, se ne dico l'interno. Un po' nomi grandi questi, però uno straniero farebbe bene anche i giovani che li vedono di più gli allenatori stranieri giovani. Il tuo futuro? Speriamo a Manchester. Va bene, ti ringraziamo. Niente, grazie a te. Un saluto da Federico Magaeta e agli amici di Soccer Time. Grazie a tutti. Grazie a tutti.